Se fossero confermati i sospetti e i primi indizi, ci sarebbe un nuovo caso di femminicidio a Brescia. Questa volta la vittima è Victoria Vokotrub, 42enne ucraina, che a Brescia era impegnata come badante, ma anche con qualche lavoro come barista. Di lei, da giovedì 5 novembre non si hanno più notizie. Un'amica, non riuscendo a contattarla, ha lanciato l'allarme. I carabinieri si sono subito messi al lavoro e martedì 10 novembre hanno intercettato l'ex fidanzato di Victoria, Kadrus Berisha, 60enne serbo, che nella zona del quartiere Fiumicello cercava di sbarazzarsi in una discarica di un sacco contenenti abiti e teli insanguinati. Immediato il fermo dell'uomo, mentre le ricerche della scomparsa sono proseguite per l'intera giornata di mercoledì 11 novembre, per ora senza esito. Intanto il serbo rimane a disposizione degli inquirenti in stato di fermo con la pesante accusa di omicidio dell'ex fidanzata. Le ricerche di Victoria proseguono anche con l'aiuto di unità cinofile nelle diverse aree abbandonate del comparto Milano. Per gli inquirenti non ci sono dubbi che l'ex fidanzato l'abbia uccisa, facendo sparire il cadavere e cercando di disfarsi di ogni traccia, compresi alcuni abiti sporchi di sangue. Le ricerche del corpo della donna stanno quindi sviluppandosi in parchi, rogge, fossati, aree dismesse tra la ferrovia Brescia-Milano, il fiume Mella e via Volturno. Dalle testimonianze raccolte e dai risconti recuperati nella zona in cui la donna vive e lavora, i carabinieri hanno scoperto che nei mesi scorsi la 42enne aveva avuto una relazione con il sessantenne serbo, che si trova in Italia da molti anni, con cui aveva anche convissuto in una casa nel quartiere Primo Maggio. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la relazione tra i due si sarebbe interrotta bruscamente per volere della donna. Il sessantenne avrebbe provato ad opporsi a quella decisione. E sarebbe stato proprio l'ex convivente ad averla vista per l'ultima volta. Le indagini proseguono serrate nella speranza di arrivare presto ad una certezza che per gli inquirenti è già scritta, il ritrovamento del corpo di Vittoria.